Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! E' un culetto stavo. Ma ero dentro. Ma ero Accademia. Attenzione al tragitto qua ragazzi. Ti vogliono prendere come Rengar. Tranquillo, ma tranquillo Brody. Eh Rengar. Brody, ma tranquillo Brody. Ho provato la mossa. Non arrivo? No, 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 no. No, no, no. Davvero… Davvero di…. faults… faccio come la trova. No, 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 no. Davvero di…. Davvero di 우와!! Uno-vie-uno-col ,fazzone. Mi ha What up! Cioè, ma 1-1 col fazzone! Oddio la fazzona! Sì, sono un mostro. È un 60 seconds, grazie. No, ti prego, un altro Non vuole finire con gli Avengers in camera Giamma, ti va ai rigori Ma stai iniziando ragazzi Bimbo Bimbo Aper stava barando subito Bimbo Aper stava barando di brutto Tarella, Tarella bro Ma che cazzo Ma che cazzo Un warride, me facevo la parkour Ma Marco mi prendi e mi dico Mi sto facendo un warride 80.000 euro lo faccio subito Ma è allucinante Ma sono statissimi soldi Ma porco dio Alla fine non ho mai provato Magari mi piace pure Ma c'è anche mano Ma allora chi è Sir Luis Se farò Killton No Go Ehi Gianco 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 E quindi fa cacare Però la spread mi è sempre piaciuta Ma la fanta 7 up Frate Com'è che te trovo appena entro in casa tua Così te trovo Così stai E coglione Ammazza che fiappe frate Ma dai zio porco Che bizzero Ma boh che feed Uno viene col fazzone Mi ha ghillato pure a me Col fazzone Gianna No Che feed Gianna uno viene col fazzone No No Si Oddio Si c'è andrà No ragazzi sono un mostro Giamma 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 Hai sblocchato la bad drive Ma tu non è che da frate Dovete fare anche il clip Dovete girarla Siamo morti tutti Siamo morti Poi mi fatti compro E mi ha acquistato tutti i diritti di immagine Praticamente Ma chi è Oddio chi è Oddio Ma io sto con voi Ma sei stupidi Vabbè fazzone Ma è fazzone Ok ma come è Vabbè fazzone Non ci sono uniti Perché c'è il maestro con voi Ancora la squadra Delle fazzone Come è secondo E quindi gli altri Prendono meno punti È una tragedia Che volo copiato Che senso Attivo È perché magari Capito Se arrivi terzo Prendi zero punti Impossibile Sono sicuro No 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 Cosa armecca Andiamo a Fabio Che prendo Ok vabbè Eh Che prendo eh voglio uccidere un vecchio la verità ragazzi posso dirvi la verità la mia canzone cioè io il mio beat lo sentivo tipo parte ho rispevato se si è aperto hai bagnato il convinto io ti voglio ricordare che ho Dio ma guarda come sei vestita e che cazzo e che cazzo no morco il mostro di Dio ecco ma secondo buonissimo dai buonissimo qui più grandi si fa piccoli così così non ci finisco iniziato presto adesso ti finisco vai tu marzone ora io sono fuori la notte scurri rimesso a chiamare dentro una porta e ti metto tranquillo e divento una porca e poi sparavera la vera natura di un uomo e riempire di soldi e se forse vuole legolare pago l'avvito per me e per mia madre non riservo i commenti di questi li lascio parlare li lascio affogare mentre prendo il volo e divento un puntino lontano nel cielo sono a guardare nei messaggi privati le richiamate mentre il mondo mi offre vanno la ora per questo no 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 marco è no no marco è 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 un tavolo di plastica da fuori è il migliore che ci sia già è proprio quello è sì è proprio quello base con la cosa della coca ma Gianmarco ma questo è quello del covid di roma Gianmarco questo è quello che è inculato da fuori quello delle bille ma come cazzo te lo sei portato per l'ero è la prima cosa che ha traslocato lì in etiopia ho cucinato regà anzi questo è proprio il tavolo capito del coso da algi da coca cola proprio basico mi piace un ragazzo che fa il power ah vabbè allora so del power lift ok quando tu hai una carriera da la prossima fino a quanti anni puoi farlo? può durare fino ai 30 dipende dalla fisicità e dallo stile di vita c'erano tutti quanti secondo me è lei aveva quella sorta di vero lorico quindi secondo me sono anche condizionato sotto quel punto allora se fossi io al posto tuo io sceglierei lei power lifting non è dato che deve morire ragazzi cioè deve morire deve morire deve morire